Benvenuti nell'edizione del telegiornale di Biafra Television. Mi chiamo Anderlina Mambo. Da oggi l'edizione del telegiornale di BTV sarà anche in italiano. Vorremmo prima di tutto portare l'attenzione dei nostri telespettatori in tutto il mondo su quello che sta succedendo in Nigeria, tra il popolo del Biafra e il governo nigeriano. Sono sicura che tutti avranno sentito parlare del Biafra e della guerra civile tra Biafra e Nigeria, denominata guerra biafrana, tra il 1967 e il 1970, in cui più di 3 milioni di biafrani persero la vita. Oggi, a distanza di 45 anni, nulla fu cambiato. I biafrani sono sempre bersagliati dal governo nigeriano, venendo uccisi ogni giorno. Ci hanno fatto schiavi di conquista da anni, ma oggi noi biafrani vogliamo essere uomini liberi. Rivoiamo la nostra nazione, la Repubblica del Biafra. Il silenzio o il sostegno del governo britannico nel 1967 alla Nigeria, in virtù del tempo, ha dimostrato di essere un errore e che dovrebbe essere corretta. La civiltà deve essere privo di ipocrisia. Sarebbe nell'interesse della civiltà per correggere gli errori del passato attraverso il sostegno indiscusso del movimento del Biafra IPOB. La terra del popolo indigeno del Biafra produce le risorse che sostengono la Nigeria. Le risorse viene sfruttate al danno dei biafrani. La loro terra viene contaminato lasciandoli miseria e vulnerabili alla malattia. La ricchezza maturata è condivisa tra i nigeriani, mentre i biafrani muoiono nel bisogno e nel Mediterraneo, cercando di attraversare l'Europa per la sopravvivenza. Il Dipartimento di Servizio di Stato nigeriano, DSS, rapinò e arrestò nel 14 ottobre del 2015 in Lagos, illegalmente il signor Nnamdikano, leader e direttore certificato della popolazione indigena e del Biafra, IPOB, accusandolo falsamente di terrorismo. Mentre il signor Nnamdikano è stato un leader tranquillo, maschietto, un leader che con la bocca, saggezza e verità ha portato l'attenzione tanto necessaria alla situazione dei biafrani. Ci furono mega proteste in tutte le città del Biafra, in tutto il mondo, in solidarietà con l'arresto del signor Kano. Tanti biafrani sono stati uccisi durante queste proteste e continuano ad essere uccisi dal governo nigeriano, nonostante i biafrani protestano sempre pacificamente e disarmati. I biafrani non hanno mai ucciso nessuno, hanno sofferto, sono stati uccisi, torturati, ridotti in schiavità, in schiavitù ed emarginati dalla Nigeria. Noi IPOB combattiamo per la libertà del popolo di Biafra. Siamo autodeterminati e non c'è nessuna intimidazione o omicidi che ci potrà mai fermare. Noi non abbiamo paura di morire per Biafra. IPOB e tutto il popolo del Biafra chiedono a tutti i vertici degli stati potenti di intervenire prima che ci sarà la ripetizione della saga del 1967 e 1970. Chiediamo l'immediato rilascio da parte del governo nigeriano del nostro leader Namdikano. Il Dipartimento di Servizio di Stato nigeriano, DSS, ha violato i diritti umani del signor Namdikano. Lo hanno torturato, è malnutrito, è fatto dormire per terra facendolo inoltre mangiare e bere ciò che lui non vuole mangiare e bere. In data 16 dicembre del 2015, il tribunale magistrato situato in Abuja, capitale della Nigeria, ordinò al DSS nigeriano l'immediato rilascio incondizionato del signor Namdikano perché le accuse su di lui erano infondate e privo di senso. Il giorno dopo, il 17-12-2015, l'armata, l'esercito della Nigeria in Onica, in Biafraland, uccisero a sangue freddo innocenti biafrani solo perché gioivano per la sentenza del tribunale magistrato in Abuja, il quale ordinò la liberazione del signor Namdikano incondizionatamente. In data 17-12-2015, il tribunale magistrato annullò inoltre il permesso passamento ottenuto dal DSS per detenere il signor Namdikano per altri 90 giorni. Il 18 ottobre del 2015, gli avvocati del signor Kano validarono la sentenza del giudice, ma quando andarono all'ufficio del DSS nigeriano per prendere il loro cliente, il signor Kano, il DSS nigeriano rifiutò il rilascio del signor Kano, disobbedendo la sentenza del tribunale magistrato di Abuja, accusando nuovamente Namdikano di crimine prodittorio. IPOB continua a chiedere l'immediato ed incondizionato rilascio del loro leader, il signor Namdikano. I biafrali hanno pagato per l'indipendenza con la loro vita. Siamo stati massacrati e incarcerati, ma non ci dissuaderanno. Le Nazioni Unite, Human Rights Watch, Amnesty International e leader dei paesi potenti devono sostenere la nostra ricerca di autodeterminazione, perché biafra è una nazione con una popolazione stimata più di 50 milioni ed è ricco di cultura e economicamente grande. Vedi petrolio crudo, carbone, zinco, ferro, eccetera. È chiaro a tutto il mondo che l'attuale presidente nigeriano, Muhammadu Buhari e Nigeria odiano a morte il popolo del biafra. È per questo che ogni volta che i membri di IPOB hanno una protesta pacifica senza armi, perché non siamo violenti, come accaduto in data 18 gennaio 2016, Buhari dò ordine immediato alla polizia e all'esercito nigeriano militare di iniziare a massacrare e uccidere innocenti biafrani. Nonostante le nostre proteste sono sempre tranquille e non abbiamo mai usato le armi, perché non vogliamo essere e non siamo violenti. IPOB rappresenta tutti gli indigeni del biafra. Il leader di IPOB, nonché direttore di Radio Biafra e Biafra TV, è Ennam Di Kano, un cittadino biafrano britannico, per la doppia nazionalità. Il vecchio presidente Buhari, essendo sempre un dittatore corrotto, non ha mai obbedito ai quattro giudizi, di quattro giudici che ordinarono l'immediato e incondizionato rilascio di Ennam Di Kano. I biafrani e Ennam Di Kano sono sostenitori per la libertà, che vogliono ripristinare la nazione del biafra dal diritto universale di autodeterminazione delle Nazioni Unite. Noi non siamo nigeriani, siamo biafrani e il mondo deve sentire le nostre voci e venire in nostro soccorso, prima di una guerra del biafra, si ripeta. IPOB ha ufficialmente scritto in difesa di tutto il popolo del biafra al rappresentante dell'Unione Europea, nonché mianco nazionale Federica Mogherini, delle Nazioni Unite, di condurre un referendum per l'indipendenza dello Stato del biafra entro 90 giorni. Ci furono tante proteste in tutto il mondo, anche in Bruxelles, davanti agli uffici delle Nazioni Unite. In Bruxelles. L'Unione Europea ha risposto alla chiamata per un referendum per il biafra, dicendo che l'autodeterminazione e le variazioni delle frontiere devono essere conformi al diritto internazionale consolidato. IPOB ha chiesto un referendum riconosciuto a livello internazionale per l'indipendenza del biafra e la sua autonomia. L'Unione Europea ha inoltre indicato che potrà solo riconoscere uno Stato del biafra attraverso il diritto internazionale e non per la secessione armata. Questo è tutto ciò che IPOB e biafra stanno facendo da anni. Rispettiamo molto la legge. Abbiamo sempre protestato pacificamente e senza armi. Non abbiamo mai ucciso nessuno o danneggiato alcuna proprietà. Nonostante tutto questo, il presidente islamico nigeriano Buhari continua sempre a uccidere senza ragione. Buhari e DSS nigeriano non hanno alcun rispetto per la vita umana, per le Nazioni Unite e per nessun altro in questo mondo. Essi non hanno alcun rispetto del diritto internazionale. Hanno abusato e gravamente violato il diritto umano dei biafra e soprattutto quello del leader del popolo indigeno del biafra Namdi Khan, che è stato e continua ad essere torturato fisicamente, mentalmente e psicologicamente picchiato, fatto bere e mangiare ciò che lui non vuole né bere né mangiare. E fatto anche dormire sul pavimento nudo, senza niente, né materasso né biancheria da letto. Il signor Namdi Khan è stato gravemente malnutrito fino in data e si è ammalato gravemente. Che cosa abbiamo fatto per meritare tutto questo? È un crimine di lottare per la nostra indipendenza e la libertà da un terrorista islamico come il presidente nigeriano. La Nigeria non è il nostro paese. È un peccato volere garantire un futuro migliore per i nostri figli nella nostra nazione, il biafra. Il mondo deve ascoltare la nostra voce e venire in nostro soccorso. Vogliamo il rilascio immediato e incondizionato del nostro leader, Namdi Khan. Lui è soltanto un prigioniero di coscienza ed è innocente, perciò deve essere rilasciato dal governo nigeriano. Vi ringrazio per averci seguito oggi. L'edizione di BTV torna domani.